Parti Annaldo e parti con la buon'ora, il sangue di Gesù tu porti in vola, l'abito di Maria tu porti addosso, non sei toccato né vivo né morto, solo va, solo via, t'accompagna la Vergine Maria. San Mauro in mezzo al mar tanginocchiasti, con alta voce il buon Gesù inchiamasti, deliberassi Susanna dal peccato, delibera Annaldo con tutta la sua compagnia, in piazza non possesse menato, in corte non possesse negato, sangue non possa sparge e carne non possa diminuì, possa andare e ritornare come quando hanno detto il nostro Signore ha battezzato. San Mauro in mezzo San Mauro in mezzo al mario 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 in mezzo al Vieni che il caffè si fredda Come risponde? Francesco vieni che il caffè si fredda Ma non mi va il caffè te l'ho detto Lo voglio Non lo voglio, me lo bevo io Poi non lo sai fare Su, ho il caffè, via Ci sta a stracomare C'è passato il treno? No, ancora no Che guardi? Uccelli Ma ne vedi quanti ce ne hanno? Il treno, bisogna guardare il treno Lo vuoi prendere il caffè? No, non mi va il caffè Che sai in bambini? Mi fa male, c'ho tutto L'ho fatto a pausa ma non fate fa male No, no, no Forza, andiamo No, no, per... Ecco fatto Guarda che hai fatto Allora, adesso che faccio? Allora io Me la lavi? Che c'è vuol lavare una camicia? Sì, terremme nuti Sì, terremme nuti Oh Dio, il treno! Guarda che è tutta colpa tua, te lo perdo! Vero! 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 Se ne è andato via! Se ne è andato? Ha fatto bene. Ciao! Tu c'hai caura? Io no. Ma che stai dicendo? Come che stai dicendo? Il treno se ne è andato via, hai detto che si fermava quando passava di qua. Te l'ho detto io? Sì. Domani. Io non ce la faccio più. Io me ne voglio andare, capito? Io non ce la faccio più a stare qua dentro. Mi sono stupato! Io me ne vado che ci sto a fare qua con te! Io non ce la faccio più a stare qua! Io non ce la faccio più a stare qua! Caldo è? che c'è dentro la borsa? niente oh guarda questa foto bella eh? chi è? mio marito era bello eh? si molto bello bello lavoratore buono tutte le qualità c'aveva avevi i baffi? un pochi ti portava a ballare? si ballavi il waltzer? si io non lo so ballare il waltzer che ci vuole? ti insegno io adesso? adesso va bene ecco niente Grazie a tutti.